Dopo il naufragio in cui mercoledì scorso 27 migranti hanno perso la vita nel braccio di mare che segna il confine nord dell'Unione Europea, le due sponde della Manica, Francia e Inghilterra, sono sempre più distanti. Ieri sera con questa dura lettera Boris Johnson ha chiesto a Macron di riprendersi tutti i migranti arrivati illegalmente in Inghilterra in queste settimane e ha accusato Parigi di non controllare il suo confine. Macron da Roma ha risposto stizzito l'immigrazione è un tema serio da non discutere su Twitter e subito dopo ha annullato l'invito spedito solo qualche ora prima al governo inglese per il vertice di domenica a Calais sull'immigrazione, un vertice che servirà a rafforzare la collaborazione europea contro il traffico di esseri umani. Il tema migranti continua ad essere uno dei dossier più urgenti per l'Unione perché la situazione è sempre più complicata anche sul confine tra Polonia e Bielorussia. Oggi il dittatore Lukashenko è arrivato tra i migranti accampati al gelo lungo il confine con la Polonia promettendogli che non gli rimanderà indietro. La Germania ha smentito di essere disposta ad accogliere quei duemila migranti e sta facendo pressioni su Mosca finché Putin convinca Lukashenko a togliergli dal gelo di quella foresta e rimpatriarli.